Ormai tutto è pronto per festeggiare il Natale. Le luminarie sono accese, gli alberi addobbati, i regali impacchettati e il menu di sette pagine per il cenone già stilato. E mentre tutto fuoriscorre caoticamente nel vortice della magia del Natale, succede che ci si scorda cosa stiamo andando a festeggiare. Succede che rischiamo di festeggiare senza il festeggiato. È così facile dimenticarsi di Gesù Cristo e del suo avvento nel mondo. Ed ecco allora che per ovviare a questa triste mancanza il gruppo Anania, Azzaria, Misaele ha organizzato in Piazza Duomo, a Biella, sabato sera, una versione musical della Natività. Un presepe vivente ricco di motivata gioia per la nascita del Salvatore. Coinvolgendo un bel numero di giovani e attirando l'attenzione di numerosi passanti che nella fredda serata di Ellese hanno voluto dedicare un momento a questa bella testimonianza. Qui in Piazza Duomo la sera con il diacono Marco Peduzzi, un evento particolare quello che si è svolto questa sera in Piazza Duomo. Una rappresentazione vivente del presepe ma che non vuole essere uno spettacolo, un mero evento di scena ma qualcosa che tocca al cuore delle persone così. Sì certo, come ho detto non è uno spettacolo quello che abbiamo fatto questa serata ma bensì ricordare un evento di una storia veramente accaduta. Un Dio che si è fatto carne, che è venuto ad abitare in mezzo a noi. Non abbiamo avuto paura delle nostre miserie, della nostra fragilità umana ma ha voluto assumere proprio questa fragilità per condividere con noi tutto quello che è bene per la nostra vita. Ecco, è bello vedere quanti siano i ragazzi coinvolti in questa attività. Dunque, in questa attività sono coinvolti circa 40 ragazzi, più ci sono la bellezza di altrettanto 20 bambini, famiglie. Ecco che così è il nostro modo di poter evangelizzare, di poter portare a tutti nelle piazze il messaggio di Cristo. In questo momento dove le chiese sono vuote e allora si pensa a come Papa Francesco vuole, ci ha chiesto uscite, andate nelle periferie, portate l'annunzio per le strade, per le piazze. Noi nel nostro piccolo, con le nostre semplicità e miserie facciamo questo. Grazie Grazie Grazie